Scusate se non ho parlato, grazie. Vado via, ci vediamo perché mi devo cambiare e operare tutta una serie di cose. Grazie, grazie. Sai dei saggini che stanno arrivando, la migliore apertura, bello, bellissimo, grandissimo, anche la Francesca Lora è piaciuta. Mi fa il vostro piacere, fatelo sapere, grazie. Come sta andando direttore, tutto bene? In ora tutto bene, siamo nelle prime ore. Ci faccio sognare, arrivederci.